Daniela Lastri, possiamo dire che lei fa parte un po' anche della minoranza del PD anche in regione toscana, ma ci sono gli estremi per un nuovo soggetto politico o vi piace ancora il PD, questo PD di oggi? Allora, io vorrei, io ho diritto al PD e quindi vorrei che il PD fosse una forza politica diversa rispetto a quello che sta diventando. Quindi sarebbe giusto ovviamente far sì che il PD al proprio interno rispetti le differenze che ci sono e quindi... Questo sta avvenendo? E questo purtroppo non sta avvenendo, credo che sarebbe infatti importante lavorare affinché si raggiunga una mediazione all'interno del PD. Se questo non è possibile io credo che è opportuno ovviamente lavorare con tutti quei soggetti politici che stanno nel mondo della sinistra e capire appunto se è possibile lavorare per creare un nuovo soggetto politico. Vorrei che tutto questo potesse essere fatto all'interno del PD e io auspico ancora che questo possa avvenire. Avete già iniziato una sorta di colloquio informale con altre forze politiche? No, allo stato attuale non c'è niente di tutto questo, però ci sono ovviamente dei segnali particolarmente significativi. Siamo in una situazione molto molto difficile, molto complessa. Credo che si sta aprendo una discussione. Se ci sarà o no uno strappo in Toscana lo sapremo prima delle elezioni regionali però? E questo è difficile dirgli in questo momento. Dipende cosa farà il PD? Dipende che cosa farà il PD.